Musica Verso un quarto alle otto mi sono svegliata fortunatamente perché se no adesso io non sarei neanche qui proprio avvolta la stanza dal monossido, io ho iniziato a tossire e poi mi sono alzata, sono andata in corridoio che il corridoio era invaso proprio dal monossido come un muro, si vedeva solamente le piastrelle mi giro verso destra e ho visto il fuoco e le fiamme Era lo scorso 31 luglio quando le fiamme avvolsero l'appartamento di Barbara Occhini in via Benvenuti a pochi passi dal centro storico Aretino un ruogo che sarebbe partito dall'esterno della casa, dal terrazzo le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco ma intanto la donna separata con due figli minori e un padre gravemente malato si trova a vivere fuori casa da oltre 20 giorni, l'appartamento di una palazzina popolare infatti ancora inagibile Ma io posso oggi come oggi innanzitutto stare lontano dai miei figli, ma se voglio farmi una doccia, se voglio mangiare un piatto di pasta suonare un campanello o chiamare un'amica, ma qui si sta scherzando, qui ne va della dignità e del rispetto delle persone In quel ruogo Barbara ha perso tutto Se io prima potevo salvare qualcosa, io oggi cosa posso salvare? Il monossido ormai ha assorbito nei mobili da tutte le parti Se io prima qualcosina potevo salvare, io oggi non posso salvare niente L'appello adesso è rivolto a Rezzo Casa, la società che gestisce gli alloggi popolari per tutta la provincia aretina Datemi un alloggio che io quanto prima lo libero, mi aiutate, vediamo un attimino, togliamo intanto le macerie perché ho una terrazza che sembra che sia scoppiata una bomba Ma io potrò a oggi innanzitutto capire le cause dell'incendio perché io potevo morire Fortunatamente i miei figli e il mio babbo che è invalido non erano in casa e questa è stata una grande fortuna Ma io poti va morire